Gli incidenti sul lavoro si possono prevenire all'impegno di Confapi, parte da cui le imprese possono collaborare in maniera sinergica per ridurre i rischi di infortunio nei luoghi di lavoro. Se ne ha parlato questa mattina nel corso dell'incontro di aggiornamento sulle novità normative in materia di sicurezza sul lavoro. Tra i temi affrontati il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'intesa con INAIL per la creazione di un sistema informativo nazionale di prevenzione, poi l'addestramento dei lavoratori. Sono questi momenti in cui aziende e istituti di vigilanza insieme ridigono delle linee guida e ridigono degli strumenti per autocontrollare le imprese e avere un parere anche dell'organo di vigilanza, al di là dell'aspetto ispettivo e repressivo tradizionale. Riteniamo fondamentale che l'associazione organizzi questi momenti di confronto, affronti le tematiche e dia soluzioni alle aziende per poter operare in sicurezza nelle loro operatività. L'incontro ha messo attorno ad un tavolo gli organi di vigilanza, imprenditori, il mondo dell'associazionismo e l'università. Favorire il dialogo continuo per informare gli imprenditori su come applicare le normative, non solo per assolvere un obbligo ma anche per tutelare i propri lavoratori.